buongiorno e bentornati su gaming galaxy il vostro portale di intrattenimento per news guide e build che riguardano i vostri giochi preferiti ricordatevi di iscrivervi al canale e se invece siete già iscritti e vi ringrazio immensamente ricordatevi di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nostri video iniziamo con l'intro e poi parliamo di tre mega corporazioni sarai un uomo fortunato se non ti imbatterai mai nella bellissima e temibile monolama e nel suo produttore kendaki è una delle poche aziende con fabbriche in orbita sebbene abbiano la tecnologia più avanzata al mondo nella produzione di cristalli orbitali e gas fiber non ottengono molti profitti come possono quindi creare fabbriche in orbita le grandi società giapponesi spesso investono fondi in piccole aziende con tecnologia originale per inserirle nell'esclusivo sistema che è rezzo la serie monolama sinonimo di kendaki in alcuni paesi è stata sviluppata da kendaki tesso per dimostrare gli usi della sua tecnologia del cristallo e per ottenere finanziamenti per un'azienda a basso profitto come nota a margine le monolame non sono vendute come armi in giappone sono utilizzabili solo in apparecchiatura industriale inoltre il presidente lo stesso kendaki è anche noto per il suo acume negli affari ma anche per la sua abilità nel kendo il suo carattere irascibile a volte si occupa di pianta grane con l'aiuto di una truppa solista e si hanno la licenza per trasportare monokatane in giappone kenshiri adaki armament più comunemente noto con il suo nome abbreviato kendaki è un produttore di armi giapponese specializzato in tecnologia avanzata i loro prodotti più famosi sono la serie di monolame il lanciafiamme pesante f 253 e lanciafiamme portatile dragon la matsushima kiroshi optics è una società giapponese nata nella capitale della montagna della prefettura di nagano la corporazione viene spesso definita kiroshi optics e se o semplicemente kiroshi è un piccolo gruppo aziendale giapponese specializzato in cyberware composto da kiroshi general cybernetics e kiroshi optics noto collettivamente come gruppo kiroshi il suo principale azionista e matsushima i ki è ampiamente considerato come il principale esperto nella produzione di cyberware ottico nel 2013 il gruppo ha cambiato il nome da kiro ishiya a kiroshi in origine era un produttore di orologi a kamisua che si espande negli anni 80 ha avuto il suo più grande impulso lanciando una fabbrica orbitale con l'aiuto di jab e la kenji technology presto che lo sia praticamente monopolizzato il settore dell'ottica a causa della qualità dei suoi prodotti e di altri prodotti come l'opti shield la cybercam o l'optiflash kiroshi ha legami molto stretti con kenji e hanno in orbita una società di produzione congiunta per essere più vicini al processo di produzione ora kiroshi punta a dominare tutto il mercato asiatico hong kong e shanghai dove vengono realizzate imitazioni di kiroshi a basso costo kang tao è una giovane società cinese specializzata nella tecnologia delle armi intelligenti e nei servizi di sicurezza si sta facendo strada verso il vertice dell'industria delle armi a un ritmo eccezionale grazie a scelte coraggiose strategie coraggiose e sostegno del governo bene queste erano tre mega corporazioni dell'area asiatica che sicuramente troveremo all'interno del nostro nuovo mondo di cyberpunk e della city project chissà quanti player vedremo con le manocatane ovviamente ne avremo fin fuori dalle orecchie ne sono assolutamente certo aspetto gli iscritti con questo è tutto noi ci vediamo a light city